Sì, infatti, abbiamo raggiunto l'obiettivo, un obiettivo importante perché la situazione non era delle più semplici quando sono arrivato, però grazie all'aiuto dei miei giocatori che sono stati stupendi da questo punto di vista, si sono subito messi a disposizione. Secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto le partite che dovevamo fare. Ne abbiamo perse due perché abbiamo giocato tutte e due le partite in dieci dal decimo del primo tempo a Vercelli e dal ventesimo contro l'Ascoli e lì abbiamo perso le due partite, ma il resto... Il cammino è stato perfetto per quello che dovevamo fare. Allora, io non le chiedo della partita, il 4-3-3, non le chiedo l'inserimento di Campagnaro, il 3-5-2, ci deve soltanto dire adesso se ha parlato con il Presidente, quanto vuole restare a Pescara, ora la stagione è finita e l'obiettivo è centrato. No, non abbiamo parlato con il Presidente perché chiaramente c'era in palio la salvezza, è impossibile parlare di contratto, di altre situazioni. Adesso, a bocce ferme, abbiamo raggiunto l'obiettivo, vedremo se il Pescara è il Presidente, i tifosi sono contenti che io resti, Firmerebbe in bianco o quasi? No, è chiaro che devo parlare con la società, chiaramente perché devo vedere anche cosa pertengono a me, cosa vogliono, vedere i programmi, vedere se sono contenti che io resti perché poi alla fine bisogna vedere se la società è contenta. perché chiaramente io sono, a di là di tutto, che resti, che non resti, ma sono contentissimo di quello che abbiamo raggiunto e di aver raggiunto l'obiettivo che per me era essenziale. Non nascondo che questa settimana ho dormito molto poco. Ha detto non ho parlato col Presidente, però qualche sera fa siete stati a cena insieme, di qualcosa avrete anche parlato, quando probabilmente si attendeva questa salvezza, però da domani probabilmente il Presidente si farà sentire per vedere che cosa vuole fare Pillon e far sapere a Pillon che cosa vuole fare la società. Sì, sì, ma chiaramente il Presidente o nel bene o nel male mi chiamerà per dirmi cosa vuole fare e lì parleremo. Se ci sarà la possibilità di continuare il percorso insieme, bene, sono a disposizione, ne parliamo, parliamo dei programmi, parliamo di come è normale che sia, di tutto, insomma, in generale, di cosa vuole fare. Se invece la risposta sarà che magari io ho raggiunto l'obiettivo e penso ad un'altra persona, amici più che prima, perché io devo solo ringraziare il Pescara, la società, il Presidente, di avermi dato l'opportunità di allenare questa squadra e a cui mi sono affezionato molto. Pillon, quando la chiamata, ripeto prima, Sebastiani dopo, si aspettava questo film che ha vissuto? Sinceramente me l'aspettavo anche più difficile, nel senso che quando arrivi in queste situazioni dove vieni da cinque partite, un punto, chiaramente il problema era mentale sui ragazzi, invece siamo partiti subito bene a Palermo, abbiamo giocato secondo me una stupenda partita lì e da lì poi è nato tutto il resto, tutto quello che abbiamo fatto, anche soffrendo, ma lavorando sodo, lavorando bene, con dei giocatori, ve lo ripeto, che mi hanno aiutato molto e sono stati stupendi, dal mio punto di vista posso dirlo tranquillamente, sono di bravissimi ragazzi, perciò sono contento per loro. La gara di Palermo è importante perché era anche quella del suo esordio sulla banchina di Pescara, quella probabilmente decisiva, la vittoria casalinga con lo Spezia. Sì, sì, vittoria con lo Spezia, vittoria a Terni, ma quello che abbiamo sempre dimostrato quando siamo stati in parità numerica è che abbiamo sempre giocato a calcio, cioè non abbiamo mai speculato, abbiamo sempre cercato di giocare la partita, anche questa sera era difficilissimo, però al primo tempo l'abbiamo giocato, l'ho giocato anche bene. Poi nella seconda parte ci siamo badati solamente a non scoprirsi, perché era chiaro che noi volevamo raggiungere l'obiettivo del punto per salvarci, era in palio da salvezza, abbiamo dato poco spettacolo nel secondo tempo, però abbiamo raggiunto l'obiettivo del punto. Senta Pilon, prendiamo per buono che ancora non ha parlato con il presidente Sebastiani, magari non ci crediamo, però prendiamo per buono. Una squadra di Pilon costruita da capo, quindi ex novo a fine maggio e primi di giugno, secondo quali canoni va costruita? Parlo di modulo. Qual è il modulo preferito di Pilon e dovesse scegliere dall'inizio? Innanzitutto mi piacerebbe tenere l'ossatura importante di questa squadra, dove abbiamo lavorato quest'anno in modo da avere un vantaggio, avremo un vantaggio, uno degli uomini che per noi sono stati importanti, avremo un vantaggio di aver già lavorato un mese e mezzo insieme a loro, due mesi, un mese e mezzo mi sembra, perciò questo sarebbe un vantaggio. È chiaro che intorno poi bisogna vedere perché ho visto che, non so di preciso, ma ci sono parecchi prestiti e parecche situazioni da valutare. Ma come modulo quelle piacce a lei? No, io continuerei quel 433. Siamo a 8 chilometri dal suo paese natale da Preganziolo, questa sera tornerà probabilmente quasi a piedi a casa, c'erano tanti suoi amici, tanti parenti. Questa sera in tribuna avrà modo di festeggiare a dovere questo traguardo della salvezza? Mi stanno aspettando, stasera posso andare a festeggiare, posso andare con loro fino a tarda notte, tanto non mi frega niente. L'ultima proprio. L'importante è aver raggiunto l'obiettivo e sono strafelice. L'ultima perché deve andare con Max Mucciante, che intanto vogliamo l'occasione per ringraziarlo per la stagione. un giocatore uno a cui non vorrebbe proprio rinunciare. No, no, uno dai, salvezza conquistata ci dica un nome. Un giocatore a cui non vorrebbe rinunciare. No, per me sono stati tutti importanti. Uno dai, uno che non vorrebbe rinunciare. Non voglio fare differenze, per me sono stati tutti importanti, tutti uguali. Anche chi non ha giocato, soprattutto. Dovesse partire Brumann, mi dispiace? Brumann, deve partire se rimango. Grazie, grazie e complimenti al tecnico del Pescara,